Sapete qual è una delle migliori strategie per mantenere i migliori collaboratori, che ha sempre funzionato e che mi ha dato grandi soddisfazioni? Fermarsi a sedere e guardare il film futuro del vostro rapporto, cioè tra azienda e lui. Fare proiezioni. Fare proiezioni e far capire al collaboratore quale può essere il pezzo di strada professionale che fate assieme. Questo è uno strumento potentissimo e non si tratta di denaro solamente, si tratta di visione, si tratta di capacità di toccare tutti quanti i sensori interessanti per il collaboratore, per la vita del collaboratore, per la sua famiglia, per le sue aspettative, per tutto quanto quello che lui vuole. Esercizio potenziante. Sedetevi con il collaboratore, guardate assieme il vostro futuro, naturalmente con i collaboratori di un certo livello e con quelli che sono i diretti vostri collaboratori. Poi ciascuno di loro lo farà la stessa cosa con il loro team. Ma questo esercizio è potenziante. Guardate che pezzo di film della vostra vita professionale andrete a guardare. Perché tante volte il collaboratore non ci arriva da solo su questa visione e magari non considera certi aspetti, magari non li valorizza, magari non sono sufficientemente chiari. Io ho trovato che è straordinario questo esercizio. Guardatevi il film del vostro rapporto futuro, azienda e il collaboratore. Buona serata.